Amici di Parmasanen, anche con la pioggia, con qualunque condizione climatica, siamo qui perché oggi inizia l'avventura degli allevi nazionali che portano il tricolore sul petto, campioni in carica dopo la vittoria dell'anno scorso in finale contro l'Empoli, si riparte però nuovo gruppo, nuova leva, nuovo allenatore, classe 1996, Zanini con il desto, palla dentro a cercare Aracli, arriva però, sostegno ancora, ancora una buona occasione per Pollino, dietro la conclusione con il destro, che non trova la porta da parte di Loperfido. Mister Tufano non sembra felicissimo dell'inizio dei suoi, Refolo, Refolo, occhio al mancino di Refolo, educato, in mezzo il colpo di testa alto. Prima occasione anche per il Sassuolo, Di Ceglie si sgola per far rispettare le marcature i suoi, qui si prova il colpo di testa e ci arriva proprio Di Ceglie, sombrero di Cavallini, Cavallini, Cavallini pressato da due, ancora spazio Cavallini, zona tiro col mancino, ci mette i pugni Corradi in due tempi, pericolo però al ventottesimo. Secondo palo di testa alta di un soffio, peccato. La lunga, Aracri, Aracri, buona la sponda e la conclusione a giro e il grandissimo go del Parma, grandissimo go del Parma, 1-0, risultanza meritata. Grande go di Pollino, 1-0, 3 contro 3 arriva, molto bene Ruffini a dare una mano, conclusione fuori. Loperfido parte col destro, secondo palo, il colpo di testa alto, c'era arrivato bene. Palla alta. Raspadori perde la palla, la riconquista, Aracri gran botta e grande deviazione anche di Di Ceglie. Zanino Traoré, solito schema, Traoré lascia, conclusione, buona di Zanini, ci mette i pugni di Ceglie. Possiamo pressarli qui, ancora Pollino recupera palla, zona tiro Ruffini, fuori. Moccia, punta Chiletti, Moccia, bene in mezzo per Ruffini e dentro è buona, è buona questa ancora Pollino, la girata è la parata del portiere. Pollino vicino alla doppietta, al trentottesimo. Azione no, finisce qui, dopo 5 minuti di recupero il Parma chiude sull'1-0. La prima gara di campionato contro il Sassuolo decide il gol di Pollino al trentottesimo e inizia nel migliore dei modi l'anno.